ragazzi tutto pronto dall'ultrafford di manchester mamma mia manchester united juventus ronaldo e pogba i due ex diciamo così the champions dai ragazzi dai forza juve forza ragazzi dai oggi dobbiamo vincere per andare in betta del nostro girone dai forza ragazzi tutto pronto l'ultrafford si parte bello mi giuro raga sul cross di quadrato ho visto gol di di bala non so perché cadere di testa non è la sua specialità se no di bala poteva far meglio dai daglielo in mezzo di bala 1 a 0 juve dai vamos di bala cross in mezzo di quadrato e di bala l'ha messa in dentro dai così la gioia 1 a 0 juve hashtag godo vai quasi raga vicino al 2 a 0 da calcio d'angolo bentancur di testa non la gira bene comunque sì prima mi sono sbagliato volevo dire su assist di quadrato cross di ronaldo sì mi sono sbagliato madonna 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 raga vicino al gol prima su punizione di ronaldo e poi matri di un siluro dalla vista dalla distanza proprio ravvicinata che parate è vicino 2 a 0 è vicino dai ragazzi forza ma no ma no vicino al gol di bala era sua la mattone la rega giro ci ha provato direi applausi per la juve fammi tagliare il volume applausi per la juve specialmente per un super primo tempo veramente ho visto una juve completamente diversa da quella di sabato contro il genoa oggi la juve più concentrata una juve che sta dominando adesso vediamo non parlo troppo perché la scorsa settimana poi il secondo tempo si sono addormentati quindi speriamo che la juve continui su questo passo su questo ritmo e dobbiamo cercare il 2 a 0 assolutamente dai forza ragazzi stiamo giocando abbastanza bene anzi molto bene quindi secondo tempo si parte forza ragazzi tutto pronto per il secondo tempo ragazzi la juve non fa cambio e mi sembra giusto così ragazzi bella vai quadrato madonna cosa gli ha parato che tiro di cr7 quadrato che era toccata piano e ronaldo un siluro ed è che era parata rega pazzesco mamma mia ragazzi mamma mia che poi ho preso ragazzi fuori di bala direi che ha fatto un'ottima partita e non sono un'ottima partita ha fatto anche il gol decisivo fino a mo dentro bernardeschi da vediamo un po se bernardeschi darà più forza di davanti anche perché di bala è stanco dai dai forza ragazzi è finita è finita ragazzi 1 a 0 e chi l'aveva previsto questo risultato su youtube io rega 1 a 0 finisce così decide di bala decide proprio la coia il nostro argentino numero 10 partita super nel primo tempo nel secondo tempo abbiamo lasciato più spazi alla manchester però abbiamo sempre gestita con tanta calma e tanta fiducia ragazzi finisce così a un trafford 1 a 0 juve vi aspettiamo anche lo stadium forza ragazzi forza juve scrivetelo vi metto un cuoricino forza rega forza juve sempre lasciate mi piace iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi e forza juve sì